Belve è nato perché volevo raccontare le donne in modo diverso, determinati forti che giocano all'attacco, non gregari. Non è che nella mia vita prima ci fossero Lamborghini, quindi l'ha avverto come una perdita, diciamo, incolmabile. Ha detto alla domanda il tuo matrimonio sopravviverebbe a un tradimento, ha detto no, infatti. Laura Navetto ha detto ma quel sorrisetto da stronza l'hanno brevettato. I fuori onda, come quelli della Grandi, della Guerritore, sono la tua personale bevata? Beh sì, mi piace, brava, sì, adesso che ci penso. Lo sgabbello, come sei tutta? Sì. È una scelta di scomodità voluta? Certo. Perché? Ovvio. Perché li vogliamo mettere comodi, rilassati, sbragati, no? Ma non è che questi sono comodissimi, eh, ora. Ci siamo preparati a posto. Hai fatto bene. Qual è il tuo concetto di limite quando entri nel vissuto di qualcuno? Ci devo lavorare.